Carnevale alle porte e come sempre la Guardia di Finanza sta intensificando i controlli per far sì che non siano utilizzati dai bambini in particolare prodotti non sicuri. Quasi 25.000 oggetti destinati al Carnevale sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Avellino in un'operazione a tutela dei bambini e degli adolescenti. I prodotti non rispettavano le caratteristiche di sicurezza richieste. L'operazione è stata realizzata dalla Guardia di Finanza del Nucleo Mobile della Compagnia di Avellino e rientra in un più articolato dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti sul territorio irpino. L'attività è stata svolta in questo periodo che comprende non solo i festeggiamenti per il Carnevale di fine mese ma anche quelli per San Valentino della prossima settimana. I prodotti sequestrati sono in particolare maschere, vestiti di Carnevale, gadget di San Valentino e giocattoli. Erano esposti per la vendita in un negozio gestito da cittadini di origine cinese nel pieno centro di Avellino. La merce, dopo un'attenta analisi effettuata dai finanzieri, è risultata non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza, con requisiti carenti in particolare di certificazione del marchio CE. I finanzieri in questa operazione hanno anche ritrovato numerosi prodotti contraffatti che raffiguravano personaggi del mondo dei cartoni animati, in particolare astucci, zaini, borselli e altri prodotti per la scuola. Il titolare dell'attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per vendita di prodotti falsi ed è stato anche segnalato alla Camera di Commercio per gli articoli non sicuri. Nei prossimi giorni i finanzieri di Avellino, ma anche delle altre compagnie della Regione Campania, continueranno l'azione di contrasto al commercio di prodotti non sicuri, al fine di assicurare l'utilizzo di merce di qualità e per garantire la tutela dei commercianti che devono affrontare sleale concorrenza.